Primi bilanci di una stagione turistica estiva ormai inoltrata, i dati arrivano dalla Struttura Tecnica della Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sagno, un progetto finanziato dall'Agenzia Ministeriale per la Coesione Territoriale con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento. Agnone è in testa alla classifica dei comuni più visitati dai turisti che utilizzano l'Alto Medio Sagno Card, la tessera che dà accesso a sconti in attività ricettive e siti di interesse. Seguono in classifica Pietrabbondante al secondo posto e Civita Campomarano al terzo. Sono dati parziali che si riferiscono ai 33 comuni molisani delle aree interne rientranti nella strategia nazionale, 33 comuni quasi tutti della provincia di Sernia. Il nostro programma di accoglienza turistica ha messo in rete 15 diverse attrazioni e 74 operatori privati della regione, ha spiegato il responsabile del progetto Gian Lorenzo Molino. Abbiamo registrato rispetto alla scorsa stagione estiva un aumento del 20% nell'utilizzo della tessera sconti. La card permette a chi la mostra di ottenere il 10% di sconto nelle attività ricettive e l'ingresso a prezzo ridotto nei siti turistici partner. Questo aumento percentuale, ha aggiunto Molino, non può ancora chiarire se ci sia stata o meno una crescita nell'affluenza turistica. I dati definitivi arriveranno solo a stagione conclusa. Intanto però i turisti sono soddisfatti per l'accoglienza, ha concluso Molino. L'Alto Medio Sagno Card è disponibile sia online sia nelle strutture turistiche del territorio. Tra i siti più frequentati dai turisti nei comuni al vertice della classifica spiccano ad Agnone il Museo della Fonderia di Campane Marinelli, il Museo del Rame e il Museo della Transumanza e dell'Arte Casearia, a Pietrabbondante il Tempio Italico, a Civita Campomarano il Castello Angioino, ma a conquistare i turisti anche il tour tra i murales. Buon risultato in termini di visite anche per Capracotta con il Giardino della Flora Penninica al quarto posto nella classifica Alto Medio Sagno Card.